ciao a tutti io sono mike benvenuti nel mio canale youtube l'argomento di oggi è come risponde il nostro corpo allo stress nei video precedenti abbiamo detto che lo stress è una risposta psicofisica a uno o più fattori stressanti di natura fisica emotiva o sociale lo stress si manifesta in modo diverso su ognuno di noi c'è a chi viene mal di testa a chi mal di stomaco a chi aumenta la pressione eccetera Hans Selye un famoso medico austriaco si è occupato di ricerche sullo stress e disse nessuna delle grandi forze della materia è tanto efficiente quanto la capacità di difesa e di adattabilità degli esseri viventi di fronte a ogni mutamento infatti esiste uno schema generale composto da tre fasi di come il nostro corpo risponde allo stress fase 1 reazione d'allarme in questa fase il corpo percepisce la presenza di un fattore stressante e si prepara per combatterlo utilizzando tutte le energie disponibili questo fattore stressante può essere di varia natura ossia fisico trauma variazione di temperatura biologico malattia infezione psicologico litigio pensieri negativi lutto la prima risposta interna avviene da parte dell'ipotalamo che ha il compito di mantenere il nostro equilibrio interno detto omeostasi agendo sia sul sistema nervoso autonomo che sul sistema endocrino l'ipotalamo risponde in tre modi 1 produce il cortisolo l'adrenalina e la noradrenalina 2 produce degli antidolorifici naturali ossia le beta endorfine in modo da innalzare la soglia del dolore 3 aumenta il battito cardiaco la pressione sanguigna e il tono muscolare il corpo si prepara alla situazione combatti o fuggi tipica del nostro istinto di sopravvivenza fase 2 resistenza in questa fase il nostro corpo tenta di combattere il fattore stressante e suoi effetti negativi attivando l'asse ipotalamo ipofisi sul rene detto asse HPA si ha quindi un'iperproduzione del cortisolo detto anche ormoni dello stress che causa però un indebolimento delle difese immunitarie fino ad annientarle del tutto per questo motivo se lo stress diventa cronico può portare a malattie virali e batteriche fase 3 esaurimento o recupero questa è la fase conclusiva dello stress che comincia quando l'organismo si rende conto che è finita la fase di pericolo o quando sta per finire le energie si parla di esaurimento se l'organismo non è riuscito a combattere il fattore stressante il soggetto ne risentirà quindi a livello fisico e psichico si parla di recupero se il corpo è riuscito a sconfiggere l'elemento di stress se la fase di resistenza è durata troppo e la fase di esaurimento è dovuta alla fine delle energie disponibili il periodo di recupero successivo sarà molto lungo e forse anche depressivo infatti le persone che sono stress dipendenti vivono fasi di resistenza lunghissime per poter passare alla fase di esaurimento quindi lo fanno artificialmente utilizzando l'alcol le sigarette e sedativi al fine di rilassare il corpo se vi è piaciuto il video vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati